Non me l'aspettavo, anche perché a dicembre eravamo stati insieme, ci eravamo sentiti, ci eravamo visti in occasione di una manifestazione alla scuola media manzone e non pensavo che Pietro ci potesse aver lasciato. Ho lasciato un grande dolore nella città di Barletta, chiunque mi vede, vede in me, non me ne ho, ma quello che è stato per Barletta, perché lui non viveva più a Barletta, stava sempre a Roma e quando la gente mi chiede, mi domanda, è possibile? E purtroppo è un'amarissima realtà. Noi cercheremo di onorarlo, di andare a Roma, di stare presenti alle sue esecue e così penso che Barletta si ricorderà di Pietro Mennea, non solo Barletta, ma tutto il mondo sportivo mondiale. Se ne è andato come un razzo, troppo velocemente Pietro Mennea ha lasciato un vuoto clamoroso, ma anche tanti ricordi, tante storie, tanti particolari. La freccia del sud nel cuore di chi ha avuto la fortuna di stare a suo fianco non morirà mai, non potrà dimenticare i momenti trascorsi con lui. Il professor Ciccio Mascolo, ad esempio, l'allenatore con cui Mennea si è affacciato alla grande atletica. Tutto è cominciato nel 1966. Io ero un giovanissimo insegnante di educazione fisica, lui era un giovanissimo atleta, aveva 14 anni, 15 anni, e abbiamo cominciato un percorso che è arrivato fino a quando l'ho seguito io all'Olimpiade di Monaco, 1972, per poi concludersi alle europee di Roma, 1974. In questo periodo ci sono stati degli alti e dei bassi, come in tutte le famiglie. Però il denominatore comune era quello di raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi li abbiamo raggiunti, nonostante tutte le traversie, siamo stati sempre puntuali agli appuntamenti importanti. Di Mennea si ricorderà l'incredibile voglia di vincere, la sua determinazione, la capabilità nel superare gli ostacoli, anche quelli più ostici. Non è nato fuori classe, ma ha trascorso la sua giovinezza per diventarlo. Durante la sua fase di ragazzo, di atleta, giovane, neanche di un allievo, c'era un certo atleta di Lecce, un certo De Giorgi, che era una cosa tremenda, era un grande campione e difficilmente riuscivamo a superarlo, perché allora si facevano gli 80 e i 300. In un campionato regionale a Molfetta quasi quasi ce la facevamo sotto che lui, però io dissi senti per il quale ho la spacca, che gli 80, vabbè, li vince lui tranquillo, non fa niente, non ci importa, dobbiamo vincere i 300. E vincemmo i 300, con grande gioia sua e con grande soddisfazione da parte mia. Da allora non si è fermato più. Quando nascerà un nuovo Pietro Mennea, secondo lei? Beh, le condizioni socio-economiche di adesso non ci consentono di fare delle previsioni, perché i giovani di adesso sono distratti da tante chimere. Pertanto poi non ci sono delle basi strutturali, delle società che sono organizzate in maniera tale da portare avanti questo discorso. Dobbiamo cercare noi genitori, noi diciamo classe dirigente responsabile, di creare questi presupposti. Allora potremo creare di noi Mennea, altrimenti è impossibile. Allora potremo creare di noi genitori, di creare di noi genitori, di creare di noi genitori.